ciao ragazzi buongiorno e bentornati sul canale oggi andiamo a vedere ethereum e andiamo a vedere ethereum più che altro anche per tutto il discorso sicurezza e tecnologia che è alle spalle sappiamo infatti in questi ultimi giorni ci sono stati diversi problemi dietro la cripto valuta infatti da prima è stato creato un sito phishing con sede in russia alla quale si veniva renderizzati una volta che si voleva entrare nel famoso wallet online di myether wallet quindi molti utenti quando hanno cercato di entrare su myether wallet in realtà sono stati renderizzati su un sito falso che aveva sede in russia poi questo non vuol dire che gli hacker siano russi però con sede insomma del server in russia e sono stati rubati ad oggi è stato calcolato che a 198 persone diverse 198 utilizzatori unici e sono stati rubati un totale di oltre 524 ethereum ovviamente diviso per questi circa 200 persone che fa diciamo un totale di 320 mila dollari quindi insomma sicuramente un problema di sicurezza che più che ethereum però ovviamente riguarda il sito myether wallet che e soprattutto anche gli utenti perché comunque da quello che si è potuto notare comunque questo sito phishing si era autocertificato per cui veniva rilevato dai vari browser e dai normali servizi di sicurezza utilizzati sui browser quindi veniva notificato con un pop up che effettivamente c'era qualcosa che non andava ma gli utenti hanno ignorato questo avvertimento e quindi si sono ritrovati a inserire i loro credenziali di sicurezza come appunto la chiave criptata su questo myether wallet finto e dopodiché i fondi sono stati prelevati sono stati trasferiti in due wallet diversi dalla quale poi sono stati rindirizzati un exchange insomma hanno fatto un po perdere le tracce e altro problema che invece è sorto più recentemente due giorni fa diciamo il 24 è stato riscontrato diciamo delle transazioni anomale di quantità e di valore veramente assurdi su alcuni token basati sulla tecnologia rc20 quindi sullo smart contract di ethereum a questo punto sono state fatte delle analisi e si sono accorti che c'è un bug c'è un difetto in questo praticamente in questo smart contract è possibile variare dei valori che permettono diciamo di moltiplicare i token la lista dei token che permettono questo questo bug diciamo questa forzatura è veramente limitata ad oggi sono semplicemente nove token vi lascio qui la lista li potete vedere sono praticamente a perlomeno io non li conoscevo sono praticamente sconosciuti quindi insomma mi fa pensare una cosa un po' tra virgoletto organizzata la nota positiva sicuramente che è limitata e circoscritta altra nota positiva è che comunque è abbastanza ristretta la cosa appunto e sono token non va a intaccare token e rc20 molto molto conosciuti molto famose molto più scambiati per cui anche che un lieve sospiro di sollievo è nota comunque a tenere in considerazione stiamo parlando di criptovalute molte volte le analizziamo sotto il punto di vista speculativo analisi tecnica variazioni di prezzo incrementi guadagni ok però dobbiamo sempre ricordarsi che in realtà dietro c'è una tecnologia una tecnologia nuova che può essere soggetta bug e quindi bisogna sempre tenere in considerazione tutto ciò andiamo quindi adesso abbiamo proprio sotto gli occhi il grafico di ethereum e terreno bitcoin abbiamo il grafico a quattro ore stiamo vedendo che in realtà il prezzo non ha subito chissà che prima di tutto perché comunque la questione myether wallet riguarda più il servizio matter wall che ethereum in prima persona seconda cosa probabilmente il bug il batch overflow quello che appunto abbiamo detto su chi ha interessato i 9 token rc20 è sicuramente una cosa ancora molto controllabile ci stanno già lavorando non ha non avendo toccato come diciamo prima token molto famosi probabilmente non ha influito più di tanto sul prezzo ovviamente c'è stato questo ritracciamento innegabile ma è un ritracciamento che abbiamo visto su bitcoin tra l'altro possiamo anche andarlo a rivedere ecco su bitcoin è ancora in atto per cui nulla di nulla di preoccupante ci si poteva aspettare eravamo arrivati da tutta questa grandissima salita il prezzo si era mosso veramente bene con l'academy l'avevamo seguito fin dagli inizi dalla formazione del test e spalle poi vedete come il prezzo trova resistenza sulla media mobile a 200 periodi fa il suo pullback breakout supporto a questo punto sulla media mobile si spinge al rialzo il prezzo viene seguito dalle media mobile più veloci la media mobile a 100 super la media mobile a 200 quindi insomma notizie positive c'è forza nel prezzo forza nel trend il ritracciamento che è partito da ieri diciamo un po in tutto il mondo cripto ovviamente è sentito anche su eterno che però sembra già avere dato un piccolo colpo di reni vedremo ovviamente dovremo comunque tenere monitorata se qui ora troverà zona di resistenza per spingersi verso nuovi minimi ma sicuramente la nota importante è che queste notizie negative per ora non hanno generato chissà quale panico sicuramente a tenere monitorata la cosa è da tenere comunque in considerazione che ethereum potrebbe avere magari qualche sbalzo dovuto comunque al fatto che queste notizie possono andare ad incrementare un po l'euforia o meglio l'isteria nel caso di vendita possiamo andare anche a vedere ethereum nei confronti del dollaro direttamente visto che qui siamo nei confronti del bitcoin beh la situazione solitamente è questa non si registrano gravi ripercussioni il prezzo si ha fatto il suo ritracciamento è tornato a testare questa zona di molto importante che avevamo già individuato in precedenza il prezzo l'ha testato ora si sta più che altro lateralizzando in questa zona qui centrale intorno ai 600 620 questo più o meno è il range tra cui uscì le 613 630 dollari ieri come dicevamo più abbiamo visto una fase di ritracciamento abbastanza generalizzata in tutto il mondo cripto eravamo partiti ieri guardando bitcoin perché magari si butta uno sguardo prima al the king come si dice e anche oggi molte cripto hanno già dato un piccolo colpo di reni diciamo così hanno provato a recuperare un po la flessione che avevano subito nella giornata di ieri l'unica forse l'unica cripto che non ha subito chissà che grande flessione in questi ultimi giorni sicuramente è EOS che gli possiamo buttare un occhio al volo visto che tanto siamo qui in diretta sui mercati e come potete vedere non ha registrato chissà che è partita comunque a rialzo ora sta testando questi massimi toccati con la formazione di questa shooting star questo era un candlesticks che avrebbe potuto presagire un ribassamento del prezzo che quindi proveniendo da un trend a rialzo molto forte il prezzo si spinge verso nuovi massimi poi la candela si ritira e va a chiudere con un piccolo corpo ribassista una shooting star che appunto ha riportato un po il prezzo a ribasso ma ora il prezzo spinge nuovamente a rialzo come vedete i massimi sono stati testati vedremo come si comporterà su questi massimi tenete sempre in considerazione in questi periodi dove iniziano ad esserci un po di ritracciamenti buttate un occhio sempre anche alle divergenze in caso qui si formassero divergenze o anche se il prezzo dovresse rompere ma formare comunque delle divergenze con degli indicatori come ad esempio può essere il MACD attenzione perché appunto potrebbe presagire un ribassamento un ritracciamento un pochettino più prolungato del prezzo e quindi magari uscire in tempo e poi rientrare ai livelli più bassi sicuramente potrebbe portarci degli ottimi profitti con questo è tutto per questa mattina vi lascio vi auguro buon trading come al solito ciao ragazzi